Inizia la sfida tra Cassarone e Puntinia, inizia a fare un serio il gol da Northbuffer per il tiro e il gol sotto marcatura, gol realizzato da Ateba. Sta per Gomez il tiro e il gol di Suley di Gomez, gol del vantaggio di Puntinia, con il gol messo a segno da Luisella Fonda con Giorgia Di Pietro. Il taglio per Babbo, un'autostrada per lei, trova il gol, trova il gol del pari, meno di tre minuti con il tiro e il gol, gol messo a segno Brixen che si appresta a disputare la prossima semifinale, quella di domani. Il Brixen su Tirole in semifinale, 25-24 con un parziale di 6-0 negli ultimi 11 minuti di gioco, ribalta completamente la situazione. Il Brixen su Tirole in semifinale, 2-0 negli ultimi 11 minuti di Giorgia Di Pietro. Grazie a tutti.